Vorrei parlare del patrimonio culturale e artistico della Valdivara. Io svolgo il mio servizio in Valdivara da 55 anni. Nel 1968 ho iniziato il doposcuola. Attraverso i ragazzi ho imparato a conoscere la cultura contadina della montagna e anche i ragazzi frequentando la scuola nostra si sono riappropriati della loro cultura di origine che in quel momento veniva piuttosto bistrattata, anzi abbastanza cancellata, anche dalla scuola ufficiale. Con loro abbiamo raccolto testimonianze, documenti, vestiario e anche molti attrezzi. In questa attività di ricerca abbiamo seguito i consigli di Annabella Rossi, la quale era stata collaboratrice di Ernesto De Martino nelle ricerche dell'Italia meridionale. Ci siamo confrontati anche con raccolte di tipo etnografico degli altri luoghi come Levanto, Aulla, San Michele all'Adige, Vienna, Stoving e ne è venuta fuori un'esposizione permanente che è visitabile ancora oggi. La cosa particolare è che i villaggi più in alto della montagna come Castigo, Scurtabò e Comuneglia hanno conservato dei reperti che altrove sono andati perduti da tanto tempo. È per questo che alcuni degli oggetti delle nostre raccolte sono esposti nella mostra sulle tracce dei pastori che si sta avvolgendo ancora adesso all'Archivio di Stato di Genova. Alcuni di questi temi poi li abbiamo approfonditi con l'Università di Genova e l'Università di Nottingham. C'erano stati altri che hanno fatto ricerche etnografiche nel passato, per esempio Giovanni Potenzana, il quale però partendo dalla Spezia arrivò fino al territorio di Riccò del Golfo, non salì più in alto. La sua raccolta, la raccolta Potenzana, che si trova al Museo Civico della Spezia, ha un po' i difetti dell'epoca, cioè la ricerca del bell'oggetto. Noi abbiamo cercato invece di documentare un po' tutta la vita della montagna. Nel 1975 ho cominciato a occuparmi del patrimonio culturale delle parrocchie dell'Alta Valle del Vara. Due anni prima la provincia della Spezia aveva promosso una ricerca sul patrimonio artistico della zona, da cui è venuto fuori un volume dedicato ai dipinti. Fino a quel momento la Valle di Vara era conosciuta per il trittico di Luca Cambiaso, che si trova nella chiesa parrocchiale di San Pietrovara. Restaurato è stato ricollocato nel 1966. Ma con la ricerca fatta dalla provincia emersero molte altre cose significative. Ed è stato merito di Piero Torriti quello di riconoscere in un dipinto, che si trova nella chiesa di San Filippo di Varese Ligure la mano di Gregorio De Ferrari, uno dei vertici del barocco genovese. Nella chiesa parrocchiale di Varese c'è un'altra opera di De Ferrari, la liberazione di San Pietro dal carcere. Si trova anche un altro importante dipinto di Giovanni Andrea De Ferrari, San Francesco che riceve le stimmate. Venne fuori così dal restauro di tutte queste opere e non soltanto si trattava di opere di altissimo livello, ma che c'era dietro anche una committenza da parte di singoli personaggi, ma specialmente da parte delle comunità. Ed è quello che verificammo quando preparammo la mostra dell'89 dedicata a arte e devozione. Una mostra che è stata visitata da tantissime persone, migliaia addirittura. E alcune delle opere meritano un'attenzione particolare perché mostrano come queste opere, tantissime opere, sono collegate alle vicende più importanti dell'Italia e dell'Europa. Una è la Madonna del Latte che si trova nell'oratorio di San Bernardo di Brugnato. È collegata a un evento importante del 1133. In quell'occasione San Bernardo fa finire uno scisma e ottiene che Genova si stacchi da Milano, diventi arcidiocesi e ottenga delle diocesi suffragane e una di queste è Brugnato. Ma qualche secolo dopo, nel 1382, viene costruito un ospitale per accogliere i pellegrini, i viandanti, i mercanti, in una delle porte della Valdivara e della Liguria che si trova sul fiume Taro. È lì che in una piccola chiesa dedicata a San Pellegrino, i Liguri collocano parecchie opere significative che danno, si potrebbe dire, il benvenuto a chi viene da lontano. Proprio se i busti reliquiari di questo piccolo oratorio sono in questo momento esposti, restaurati, al Museo Diocesano di Brugnato e abbiamo intitolato la mostra proprio benvenuti in Liguria. Altri opere importanti che si trovano in Valdivara vengono dall'Inghilterra. Nel 1551 Pietro Giulio Cristiani, che forse è ambasciatore o dei fieschi oppure di questo territorio già passato alla Repubblica, porta dall'Inghilterra alcuni alamastri. Due si trovano ancora nella chiesa parrocchiale di Varesi Ligure, una Madonna con bambino ben conservata e una Trinità con qualche danno. Probabilmente sono arrivate in una valigia diplomatica e sono una delle tante opere che si sono salvate dall'epoca dell'iconoclastia in Inghilterra. Ma andando avanti, le influenze che arrivano da fuori si trovano per esempio anche in un dipinto di Scuola Fiamminga che è nel santuario di Airola di Sesta Godano. È interessante raccontare come alla vigilia dell'inaugurazione della mostra che si doveva aprire il 15 luglio dell'89 ancora la comunità di Airola non aveva deciso che cosa fare del quadro e si dovette fare una assemblea proprio di notte e della vigilia in cui alla fine decisero di dare il quadro con un solo voto contrario. Ma alcuni giorni dopo io ho fatto un elogio di questa comunità per il suo attaccamento a questo dipinto prezioso. Io lo chiamai in quell'articolo icona della comunità e ho cercato di far capire in più occasioni che dipinti, statue e anche singole devozioni devono essere proprio chiamate icone della comunità che raccolgono questo appello che viene dal passato che è nello stesso tempo culturale, artistico e di fede. Per molto tempo ha prevalso la lettura soltanto estetica delle opere. Ma io credo che bisogna ritornare anche a una lettura teologica. Ad esempio in parecchi quadri e anche statue si trova un Gesù bambino che porta sulla mano il globo. Sì, viene inteso come una supremazia, il re dell'universo, ma in realtà lì c'è anche la rappresentazione della sapienza bambina di cui parla il libro dei proverbi che sulle ginocchia di Dio si diverte sul oppure con il globo terrestre. E c'è un quadro, un grande quadro, un grande dipinto nella chiesa di San Lorenzo di Campore di Maisana in cui il bambino Gesù è un bambino malato. Con grande coraggio il committente e anche il pittore che ha accettato l'idea, lì viene rappresentato il servo di Dio di cui parla il profeta Isaia che si carica delle nostre infermità e lì viene rappresentato già da bambino. Ma molte altre storie interessanti sono collegate alle opere d'arte conservate in Valdivare. Ad esempio la Madonna di Porciorasco ha una rappresentazione abbastanza rara. La Madonna ha appena fatto il bagno al bambino e lo adora, ma il bambino vuole semplicemente risalire in braccio. Ebbene questa iconografia proviene da un quadro che si trova nel santuario della Vasina in Corsica e dunque c'è la conferma dei rapporti tra la Liguria e la Corsica, normale perché la Corsica apparteneva a Genova fino al 1768 e c'è il collegamento con questa famiglia De Paoli che senz'altro ha ordinato il gruppo e che è collegata, che era stata collegata ai suoi luoghi di origine. Altri fatti molto interessanti sono da riferire a un evento piuttosto strano per la Valdivare. La Valdivare è rimasta coinvolta nella cacciata dei Gesuiti dalla Spagna. Le cose sono andate in questo modo? Il re di Spagna caccia i Gesuiti, Genova li accoglie in qualche modo e vengono collocati prima in Corsica e poi vengono portati nelle varie legazioni dipendenti dallo Stato pontificio. Ma ci sono tre fratelli di cui uno lascia gli studi teologici e diventa avvocato, sposa una donna di Varese Vigure e mette in piedi un'azienda agraria. Ma uno degli altri fratelli lo consiglia di come comperare molte opere d'arte, specialmente quadri, che sono state vendute dalle famiglie genovesi rovinate dall'epoca napoleonica. Ebbene, in questi quadri acquistati da questo avvocato che si chiama, italianizzando il suo nome spagnolo, Gabaldoni, tra questi quadri c'è anche il quadro che inizia il barocco genovese, il Ratto di Proserpina di Valerio Castello. Ebbene, in un soffitto del Palazzo Cristiani di Varese Ligure c'è una coppia del quadro originale di Valerio Castello. E mentre l'originale, passando da Genova a Torino a Roma e poi ritornato a Genova, manca una parte sulla sinistra, nella pittura di Varese Ligure c'è rappresentato il quadro come era ancora intero. Storie di questo genere ce ne sono molte, ma forse l'ultima che può dare un'idea dell'amore della gente di questi luoghi per l'arte riguarda la Madonna di Marmo di Comuneglia. È sempre nel 1822, nel momento in cui appunto si attrezza il Palazzo Reale di Genova, che vengono messe in vendita gli arredi della chiesa di San Francesco di Castelletto. Gli uomini di Comuneglia vanno per comprare alcuni angeli e una Madonna in marmo. E però viene il dubbio, se la vogliamo mettere sulla facciata della chiesa, che riuscirà a spingerla così in alto? E allora saltano fuori i giovani che sono operai all'arsenale di Venezia e dicono siamo capaci noi. Le opere pesantissime vengono trasportate con i carri da buoi e si cerca di passare attraverso la Val Graveglia, ma i carri affondano. E allora bisogna passare dal Bracco. È stata una vera impresa. Ma pochi anni fa si è capito, si è scoperto che questa Madonna con bambino è l'unica opera in marmo rimasta di Luca Cambiaso. Dunque si potrebbe dire che la Valdivara, che è ricca di tantissime opere, non solo ha contribuito a far nascere queste opere ordinandole a tanti artisti, ma in qualche modo ha contribuito a salvare e a salvare dalla dimenticanza moltissime altre opere.